Buongiorno Ok E benvenuti in questo insieme Home, si ciao In questo insieme vlog In cui andremo a comprare il regalo Per la festa della mamma I miei capelli fanno schifo Il mio outfit è questo Non mi metto a dirvi il tutto Perché sono ciaone I miei capelli fanno schifo Quindi andrò a mettermi tipo il capello Con la 0p1 Di Benjafede E quindi nulla Andiamo a comprare appunto Il regalo Vi faccio vedere l'outfit Così siete più contente Allora Ho questa maglia di Chiavi La felpa Questa qua Che avete già visto Di Terra Nova Questi jeans qua Che non so dove l'abbia presi Penso che sia H&M E le Adidas La cover Ora la vado subito a cambiare Questa è la cover Aspetta Eccola Ecco raga Questa è la cover You and me E tipo Penso che Che questa cover Sia la più bella Secondo me Quindi nulla Io ora Vado subito Dirò a mia madre Che vado da mia nonna Vi registro L'audio Chiamo mio padre Mi faccio Lì a prendere E poi nulla Ciao In questo modo Che mi dice Che mi dice Il programma Che utilizzo Per editare i video Che è corrotto Il progetto Che ho fatto È corrotto Ma Non ho fatto Vedere nulla Cioè nel senso Non ho fatto nulla Di strano Boh Io sono veramente Ieri ero Tipo Non so Non so Su quale Quante furie Guardate ragazzi Veramente Veramente Non lo so Perché mi sono Impegnata a farlo L'ho fatto Per voi Quindi Lo doveate Vedere Ma Purtroppo Non so Che dire Ora Non sono più Così tanto Arrabbiata Però Sappiate che Ho fatto Il Ho fatto Il tre ore In macchina Quindi Questo È il casino Cioè Veramente Boh Vabbè Quindi nulla Io Noi ci vediamo Più tardi Raga Ora vado a mettere Il mio cappellino Perché Sta quasi arrivando Mia madre Siccome non sapeva niente Mi ha praticamente Fatto pulire La camera Io gli ho detto Che arrivava Babbo E quindi Adesso Me ne vado Perché Se no Mi continua A far pulire La camera Alla fine Abbiamo scelto Questa Perché le adidas Non c'erano Se no Prendiamo le adidas Sono arrivata A casa Con la busta Mi ha sgamato Però ho detto Che ho comprato Una borsa Per me Della Pyrex Che lei sa Che le volevo Quindi raga Semplicemente È questo Il regalo È quello Che avete visto Prima Cioè le scarpe Quelle lì Sono veramente Bellissime E raga Vi faccio Sbirciare A voi Perché Siete voi Aspetta La marca È tipo Victoria Una roba del genere Non lo so Aspetta È Vic Ok raga Non lo so Che marca sia Vabbè Una marca molto strana Ma il modello È bellissimo Quindi ok Quindi nulla Ciao Ok Victoria Però mi sono accolta Che la ragazza Non ha tolto Il prezzo Da qui dentro E quindi Devo toglierlo Perché se no Perché se no Se no Oddio quanto profumano Guardate che belle Ok Vabbè Niente So che Pubblicherò questo video Il giorno prima Della festa della mamma Ma sono tranquilli Che lei Lo scarterà oggi Letteralmente oggi Quindi Saprà già Quali sono Qual è il suo Regalo Lo scarterà oggi Perché domani Siamo fuori E non potremo Praticamente Non potremo Darglielo Perché se no Boh Domani Vedrete La sua reazione Di quando Scarterà il regalo Quindi nulla Il vlog si conclude qua Se vi è piaciuto Lasciate tanti Pollicioli in su Commentate qua sotto Con i video Che vorreste vedere In questo Canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao